Godos V1 prima versione e nuovo Godos V1 Pro. Ben ritrovati ragazzi in questo nuovo video. Oggi facciamo una bella chiacchierata dove ti porto nel canale il nuovo Speedlight che ha rilasciato proprio recentemente Godos. Un flash che sono state ovviamente riviste alcune cose, sono state inserite anche delle novità. Un flash che non potrebbe essere utile a tutti e quindi potreste anche continuare a utilizzare il vecchio V1 che ovviamente troviamo sempre in commercio. Nel video di oggi faremo una bella chiacchierata dove soprattutto ragazzi voglio concentrarmi su alcuni aspetti, soprattutto quelle cose che sono state introdotte e voglio parlarti soprattutto dell'utilizzo della batteria esterna che puoi utilizzare nel Godos V1 Pro e di questi famosi 100 lampi che ovviamente Godos mette in risalto e vediamo se ne vale veramente la pena e ovviamente andiamo a vedere anche questo nuovo flash anteriore che è stato aggiunto. Ok ragazzi quindi segui questo video che sarà un po' più lungo del solito ma se non hai tempo te lo salvi e te lo guardi quando è tempo. Buona continuazione. Bene ragazzi allora vediamo adesso innanzitutto il contenuto della confezione e vediamo anche cosa è stato introdotto su questo nuovo flash di Godos. Allora io ho preso la versione per Sony disponibile anche per Canon, Nikon, Fuji, Panasonic insomma le principali aziende che costruiscono fotocamere. Ok allora io ho già tirato fuori tutto quello che c'è all'interno di questa confezione non c'è granché ovviamente però te lo faccio vedere poi ti faccio vedere cosa è stato introdotto rispetto al vecchio Godos V1 eccolo qua ok che praticamente per quanto riguarda te lo dico subito la potenza non cambia nulla abbiamo sempre i classici 76 wattora ok quindi non cambia nulla però sono state introdotte alcune cose molto interessanti è un flash consigliato soprattutto per chi fa fotografia di reportage anche sportiva perché adesso ti farò vedere una cosa molto interessante che hanno introdotto ok però prima di vedere cosa hanno introdotto vediamo cosa trovi all'interno della confezione borsetta classica che hanno anche un po' migliorato per quanto riguarda proprio l'aspetto hanno messo questa texture decisamente più carina la scritta Godos abbiamo il classico passante per la cintura abbiamo non potevano mancare ovviamente le istruzioni leggetele abbiamo una nuova batteria che tra l'altro è anche aumentata la capacità perché è adesso di 21 wattora ok quindi abbiamo qualcosina in più anche se per quanto riguarda l'autonomia abbiamo i classici 500 lampi se scattiamo alla massima potenza ok quindi è una buona autonomia però per quanto riguarda l'autonomia c'è una cosa che dopo ovviamente vi devo ovviamente sottolineare e abbiamo qui proprio una cosa che potrai ovviamente utilizzare che io lo facevo già dieci anni fa che è un power bank ma adesso ci arriviamo allora nuova batteria che ha adesso la possibilità come le batterie che ti ho fatto vedere alcuni mesi fa di collegare direttamente il cavo usb tipo c direttamente sulla batteria e ti vai ovviamente a collegare il tuo caricatore è una soluzione molto consigliata soprattutto per chi fa fotografia di reportage matrimoni sei durante una pausa al ristorante ti ricarichi la batteria di solito una batteria potrebbe essere sufficiente proprio per terminare un matrimonio ovviamente è sempre consigliato di averne una discorta però questa soluzione potrebbe essere già una cosa che potresti utilizzare e prendere in considerazione ok abbiamo sempre un caricatore dietro soprattutto perché abbiamo un nostro telefono ok oppure puoi utilizzare il classico power bank quindi poi cos'è che troviamo abbiamo anche il classico treppiede ok che puoi utilizzare anche con questo filetto collegare il godos v1 al tuo stativo però la novità diciamo una delle più importanti e particolari abbiamo adesso un mini flash che puoi collegare direttamente al godos v1 pro ok è un piccolo flash non è una luce led come troviamo nel nuovo godos v8 e 63 che ti ho fatto vedere un paio di anni fa è un piccolo flash che tra l'altro puoi anche regolare la potenza dalla massima fino a un cento vettortesimo ok e una volta che lo hai anche inserito lo puoi anche disabilitare ok non sei obbligato a utilizzarlo se ti fa comodo lo vai a inserire oppure no però nel momento in cui magari pensi che non ti possa servire dal menu lo puoi anche disattivare l'inserimento è molto semplice qui abbiamo dei contatti che sono protetti da una plastica che scorre praticamente tu vai inserirlo direttamente vai a premere senti un piccolo click e sei a posto ok da questo momento lui ovviamente può lampeggiare e poi ovviamente modificare la potenza direttamente dal menu del godos v1 pro quindi andiamo a inserire la batteria e vediamo anche le altre novità anzi ti faccio vedere subito che per modificare la potenza di questo piccolo flash basta entrare nel menu sub e poi abbiamo la possibilità di cambiare con classica rotellina le potenze se non ti serve on off e lo vai a spegnere con la precisazione che secondo me è molto importante allora voglio misurare la potenza di questo piccolo flash innanzitutto questo lo punto verso l'alto e l'ho messo a un 256 esimo di potenza quindi non va a influire granché quasi nulla allora cosa molto importante che ho notato questo flash piccolino che hanno introdotto funziona solamente in modalità normale quando hai il v1 nel corpo macchina nel momento che vai a utilizzarlo off camera quindi passi alla modalità wireless non lampeggia ok quindi con il x pro non funziona neppure adesso che ho fatto delle prove con i secondi non me lo fa lampeggiare lampeggia solamente ovviamente la testa principale voglio vedere la potenza giusto per rendermi conto di quanta potenza può avere soprattutto quando lo vado a utilizzare alla massima potenza che alla fine sarà quella la potenza che andrò a utilizzare forse è un mezzo in effetti adesso io ho fatto delle prove partendo anche a un trentaduesimo e praticamente non lo rivela il secondi ok quindi è una potenza decisamente minima quindi sono partito da una vediamo un ottavo vediamo un ottavo cosa mi mi dà un metro di distanza ok iso 112 questo non conta praticamente nulla devo farlo lampeggiare premendo il tasto e mi dà f2 ok vado aumentare alla massima potenza devi premere il tasto sub e con la rotellina vai aumentare la potenza porto subito alla massima potenza sempre un metro di distanza all'incirca premiamo e mi dà f4 ok le altre novità che hanno introdotto sono innanzitutto questo switch che ti permette in maniera molto veloce di passare dalla modalità manuale o viceversa ttl in maniera molto veloce ok questa secondo me è una soluzione che molti andranno a utilizzare l'altra novità diciamo che non è una novità al certo per cento diciamo che l'hanno solamente rientrodotto ok già l'avevamo vista tantissimi anni fa è la possibilità tramite questo connettore di collegare un power bank ok allora ci sono diversi power bank io quello originale rimarchiato da un'azienda che adesso non esiste più io l'avevo comprato dieci anni fa genesis che praticamente quadra light adesso esiste anche il modello originale di godos che ti permette di avere più autonomia ok perché hai bisogno di più autonomia alcuni di voi diranno ma mi prendo una batteria secondaria che sono a posto esattamente potrebbe essere la soluzione che ti vado a consigliare perché una batteria di riserva fa sempre comodo però dal momento che una delle novità principali che ha questo nuovo flash è quello che adesso può anche emettere fino a cento lampi alla massima potenza consecutivamente quindi capisci bene che la batteria la vai a consumare praticamente in meno di un minuto e quindi capisci bene che se pensi di utilizzare questa nuova funzione avere questo power bank praticamente è obbligatorio anche perché due batterie si avrai mille lampi di autonomia ma non potrebbero essere sufficienti con una batteria del genere praticamente ti spari quasi 3000 lampi ok ragazzi sempre alla massima potenza questa era una soluzione che adottavo tanti anni fa quando non erano ancora state introdotte le batterie al litio chi utilizzava i speed light con le batterie alcaline sa di cosa stavo parlando e quindi io avevo adottato proprio questo sistema primo per avere più autonomia e soprattutto per avere una ricarica più veloce poi sono state ovviamente introdotte le batterie al litio che danno performance decisamente più elevate soprattutto per il tempo di ricarica più veloce soprattutto quando scatti la massima potenza ok qua non cambia nulla perché abbiamo sempre una batteria al litio però la differenza per quanto riguarda proprio il tempo di ricarica con le vecchie batterie al litio ovviamente utilizzare questa soluzione era decisamente una cosa molto particolare cosa che io ho sempre utilizzato tra l'altro avevi la possibilità di hai la possibilità perché lo puoi fare ancora di collegare due flash e se non avevi la necessità di utilizzare due flash prendevi proprio questo accessorio che praticamente andava a raddoppiare la potenza ok una soluzione che ti consiglio di adottare c'è ovviamente il modello di godos ma trovi tantissimi power bank che hanno questo innesto che utilizzano proprio i flash per essere alimentati ok ragazzi allora ragazzi adesso voglio fare un po di chiarezza per quanto riguarda il power bank e soprattutto questi tempi di ricarica che troviamo nel godos v1 pro e praticamente questi 100 lampi consecutivi perché quasi sicuramente fate confusione sono sicuro e voglio ovviamente cercare di essere chiaro allora 100 lampi consecutivi se li facciamo alla massima potenza praticamente devi capire che innanzitutto il tempo di ricarica alla massima potenza è di un secondo e mezzo quindi non cambia nulla rispetto al v1 al v863 però potrai farli lo stesso perché quello che ti vuole far capire godos che abbiamo meno problemi di surriscaldamento con il v1 non ce la fai perché ovviamente poi entrerà in protezione si spegne il flash e non puoi ovviamente per 5 10 minuti utilizzare questo flash questo invece ha una durata decisamente migliore per quanto riguarda il surriscaldamento ok poi ricordiamo sempre che man mano che andiamo abbassare la potenza i tempi di ricarica sono molto più veloci quindi facciamo un classico esempio devi fotografare una modella che sta facendo una passerella personalmente io l'andrei a utilizzare a un 32esimo ok anche a un 16esimo però magari a un 16esimo magari ti perdi proprio una foto e quindi per non rischiare un 32esimo ok però insomma dopo devi fare delle prove valutare te quindi se fai un certo tipo di fotografia e vuoi avere tranquillità e più autonomia e soprattutto tempi di ricarica più veloci devi acquistare questo power bank quello di godo si chiama pro pack questo è praticamente stesso prodotto solo che è rimarchiato ok non è altro che una batteria a litio molto potente che ti permette proprio tramite questo innesto che abbiamo nella parte anteriore del god su 1 pro di utilizzare questa batteria ok allora adesso ti faccio vedere anche i tempi di ricarica come ovviamente vanno a migliorare però prima di farlo voglio anche spiegarti una cosa molto importante perché se decidi di acquistare questa batteria innanzitutto devi acquistare almeno io te lo suggerisco questo cavo a v o ok che non lo troverai in dotazione lo devi acquistare e non costa poco purtroppo ma a giorno d'oggi cos'è che costa poco niente e ti permette di usufruire entrambe le uscite ok perché ne abbiamo due perché potresti attaccare anche due flash chi mi segue nel canale sa benissimo specialmente chi ha visto il godos v1 quattro anni fa io utilizzavo sempre due flash e quali collegavo proprio tramite questo power bank e ne alimentavo due però se prendi questo cavo a forma di v puoi usufruire della doppia potenza e darla praticamente al v1 pro e quindi i tempi di ricarica sono decisamente molto veloci comunque se questa cosa non è stata chiara scrivetemi qui sotto nei commenti che ovviamente cercherò di rispondermi o farò un video dedicato dove ti faccio vedere l'utilizzo di questo power bank che è decisamente molto utile ricordo che quando ovviamente questo lo andrei a mettere nella tua slitta della tua macchina fotografica questo lo puoi mettere tranquillamente nella cintura e quindi lo porti tranquillamente qui ok come quando usi la d200 con ovviamente il cavo adesso però prendo lo stativo e ti faccio vedere i tempi di ricarica che sono decisamente migliori dunque ragazzi facciamo questo test brevemente per farti capire che i tempi di ricarica sono decisamente migliori se vai a utilizzare una batteria del genere e soprattutto l'autonomia ok allora ospito tutte le luci ragazzi per riuscire a vedere esattamente i display che a noi è quello che interessa ok quindi batteria power bank utilizzo entrambe le uscite quindi è bisogno del cavo avvi voglio ricordarlo partiamo da un quarto perché partire da potenze più basse non ha senso ok allora perché già la ricarica è istantanea con la batteria che abbiamo in dotazione allora luce verde è carico luce rossa si sta caricando accendiamo il trigger facciamo il lampeggio e come vedete praticamente a vista d'occhio la luce rossa non si vede ok quindi praticamente è quasi istantaneo facciamo una prova aumentando di uno stop e vediamo se i tempi di ricarica vanno ad aumentare quasi sicuramente facciamo la prova e come vedete si vede per un millesimo di secondo la luce rossa aumentiamo alla massima potenza e vediamo i tempi di ricarica e come vedete secondo me andiamo a scendere sotto anche il mezzo secondo e come vedete io posso scattare continuamente se c'è un po di ritardo ma praticamente scattando senza questo power bank i tempi sono molto più lunghi e facciamo la prova lo andiamo proprio a spegnere quindi adesso non funziona quindi entra in funzione solamente la batteria che abbiamo in dotazione facciamo il lampo e come vedete i tempi sono decisamente più lunghi se ti stai chiedendo se il menu del nuovo v1 pro è diverso dal v1 ti dico no praticamente non avrai problemi quindi se possiedi magari anche il vuoto 63 praticamente non avrai problemi a utilizzare fin da subito questo nuovo v1 pro ovviamente avendo introdotto questo piccolo flash abbiamo proprio un menu dedicato per quanto riguarda la potenza che andrà a modificare e ovviamente anche la possibilità di disattivarlo tramite il menu ricordo anche che lo puoi togliere ok per quanto riguarda altri aspetti sono praticamente uguali come la testa tonda quindi se possiedi già gli accessori magnetici l'hpr 21 li puoi utilizzare tranquillamente qui nella testa abbiamo anche nel v1 pro un piccolo led che funge da luce pilota da 2 watt le funzioni sono le medesime può lavorare da master quindi puoi controllare altri flash sempre di godos da remoto puoi lavorare in i sync fino a un 8 millesimo le classiche funzioni in modalità manuale ttl e ricordo che qui abbiamo lo switch per farlo in maniera più veloce e la modalità molti quindi praticamente non cambia nulla però abbiamo la possibilità di lampeggiare fino a 100 volte consecutivamente alla massima potenza due paroline al volo anche sulla batteria che è molto simile ma è diversa e qui tra l'altro abbiamo una porta usb tipo c che ti permette di ricaricarla senza avere una basetta dedicata come siamo abituati a trovare negli altri flash quindi la puoi ricaricare in macchina con l'accendi sigari con un semplice power bank dunque ragazzi allora faccio conclusione di questo video pensavo di portarti anche dei contenuti per quanto riguarda il classico backstage però non il backstage dove lo andiamo utilizzare off camera perché non ha tantissimo senso perché praticamente non ha nulla quando lo andiamo utilizzare proprio su uno stativo di diverso al vecchio v1 ok quindi come ti dicevo prima è un speedlight dedicato a tutti coloro che lo utilizzano ovviamente nella propria slitta della propria fotocamera ok quindi un speedlight per paparazzi fotografi di reportage anche fotografi sportivi con questa nuova opzione che ti permette di scattare fino a 100 lampi consecutivamente alla massima potenza ragazzi non sono pochi ok quindi però presta sempre attenzione alla batteria perché si scaricherà molto velocemente lo ribadisco però come ti ho fatto vedere c'è la soluzione e si può ovviamente avere molta più autonomia cosa molto importante ragazzi che voglio ovviamente aggiungere questo video alcuni di voi si chiederanno ma questo piccolo flash che hanno introdotto che ricorda moltissimo il classico flash pop up che avevamo tantissimi anni fa sulle reflex che era decisamente molto utile io lo andavo a utilizzare poi ovviamente pian piano specialmente sulle mirrorless è del fondo non hanno più messo secondo me è molto utile soprattutto se utilizzato nel modo corretto ovviamente non li devi entrambi puntare sul soggetto uno lo punti su una parete quindi sfrutti proprio la luce di rimbalzo e con questo vai a schiarire come ti ho detto hai la possibilità di regolare la potenza in maniera molto precisa perché puoi regolarla fino a un 128esimo altra cosa che ovviamente voglio ricordare è che abbiamo un flash piccolino quindi non credere che abbia tantissima potenza come abbiamo qui ok qui abbiamo 76 watt ora che sono decisamente buoni per uno speed light ci puoi fare tantissimo però qui abbiamo giustamente un piccolo flash che ti aiuta in quelle situazioni che possono ovviamente schiarire quelle piccole ombre che potresti proprio avere quando vai a utilizzare il flash principale quindi se è usato con metodo basta fare un po' di pratica ragazzi vedrai che avrai degli ottimi risultati ok per concludere cosa posso aggiungere beh che il flash per quanto riguarda anche la costruzione si presenta molto bene ormai godos ci ha abituato decisamente molto bene però ti dico subito che il prezzo è decisamente aumentato ok adesso io ho visto i prezzi qui in Romania sono di 400 euro 399 euro credo che i prezzi siano uguali anche in Italia comunque ti lascio il link in descrizione vedi te valuta ovviamente se devi utilizzare uno speed light soprattutto off camera il consiglio che ti do è di passare almeno alla D100 Pro ok questo è più un flash dedicato a tutti coloro che si occupano di fotografia di reportage però ovviamente qualche volta potrebbe essere anche necessario utilizzarlo off camera e quindi può tornarti decisamente molto utile ok ragazzi quindi io chiudo qua il video fatemi sapere se vi interessa che vi porto magari un backstage dove lo andiamo proprio a utilizzare direttamente nella mia Sony in camera e vediamo cosa possiamo ovviamente ottenere non è una cosa che io faccio molte volte anzi quasi mai però come ti ho detto anche in altri video alle volte può essere utile ok quindi bisogna essere preparati quindi se questo video ti è piaciuto supportami con un semplice like che ovviamente mi permette proprio di portarti altri contenuti soprattutto quelli con backstage che sono molto impegnativi quindi ti ringrazio ancora e ti do appuntamento alla prossima settimana o al più tardi fra 15 giorni